Una interrogazione in consiglio comunale extra large per scannerizzare costi, ritardi e previsioni di quello che è diventato il cantiere lumaca per antonomasia della città. Il vecchio palasport o futuro palascavolini che dir si voglia si ritaglia un abbondante quarto d'ora del consiglio comunale del 28 febbraio con l'assessore alfare Riccardo Pozzi a rispondere all'interrogazione del consigliere Daniele Malandrino snocciolando una cronostoria fatta di cifre e cambiamenti in corsa di una struttura che si pensava di inaugurare alla chiusura delle Rossini Opera Festival del 2021 e che invece sarà ancora con le impalcature per la prossima edizione del ROF confidando di arrivare al completamento entro la fine dell'anno. Una serie di ritardi che, come ricordato da Pozzi, sono partiti nel 2016, anno che modificò l'intervento da miglioramento statico a miglioramento sismico dell'intera struttura, tribune comprese. A seguito poi del sisma che ha interessato le Marche nel 2016 e considerato l'elevato carico emotivo anche che nacque sulla cittadinanza, la sensibilità sul tema terremoto e la sensibilizzazione per tale aspetto progettuale, l'amministrazione ha ritenuto opportuno introdurre una richiesta migliorativa del progetto esecutivo in fase di redazione richiedendo il miglioramento sismico controllato dall'intero complesso edilizio, aggravio di lavori, aggravio di costi e inevitabile accumulo di ritardi. Complessivamente quindi, prima del definitivo avvio dei lavori, il procedimento aveva già accumulato un ritardo, se così vogliamo chiamarlo, di due anni. Iniziati i lavori tecnici e ditta si sono trovati di fronte a lavorazioni tipo strutturale non ipotizzate prima del procedimento in essere, che hanno richiesto un anno di tempo. Stante l'avanzato stato del procedimento dei lavori, quindi in merito anche alla sua domanda, stiamo lavorando per concluderli entro l'anno corrente. I costi sono partiti dunque da poco meno di 4 milioni a 5 milioni e 800 mila euro corrisposti alle imprese che hanno lavorato finora sulla struttura. Per l'importo eccedente 1 milione 7 dal GSE e ora 2 milioni e mezzo previsti nel bilancio di previsione per il completamento. Quindi in merito al conoscere l'esatto importo che si prevede per il completamento dei lavori, la stima preventiva per la conclusione dei lavori è di 2 milioni e mezzo che sono previsti nel bilancio di previsione 2022. Insomma, una struttura fin qui con tanti incidenti di percorso che però al momento non inducono il Comune a voler intraprendere azioni legali. Al momento non sussistono i presupposti, né interesse o convenienza da parte dell'amministrazione comunale ad avviare le azioni legali nei confronti delle ditte assegnatari dell'appalto per esecuzione dei lavori dell'ex palazzetto dello sport. È altresì vero che l'amministrazione comunale mantenendo il costante controllo del procedimento e dei lavori può agire nei confronti delle ditte esterne fino al momento della chiusura definitiva del contratto, ovvero prima dell'approvazione del certificato di collaudo che sarà redatto al momento opportuno.